Cari amici, l'11 ottobre dell'anno scorso abbiamo fatto un appello al Sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, chiedendo di garantire le dirette streaming dei consigli comunali e un sito che raccogliesse tutti gli atti dell'albopretorio, così che ogni cittadino potesse consultarli quando vuole, esattamente come le dirette. È passato ormai un anno, ci sono stati molti consigli comunali, alcuni persino alle 9 di mattina, l'ultimo il primo agosto, ma ancora delle dirette non si sa nulla, per questo ci ritroviamo ad inviare una nuova istanza a chi di dovere. Eppure, per chi non lo sapesse, non solo la legge prevede la trasparenza più assoluta, ma il meccanismo per farlo è davvero molto semplice e veloce. Se questo comporterà delle spese per l'amministrazione, siamo pronti ad occuparcene personalmente e a titolo gratuito, pur di offrire un servizio ai cittadini. È stato detto in un consiglio comunale che l'amministrazione non ha nulla da nascondere. Benissimo, cosa aspettate? Grazie.